Ciao Vuoi salutare tua sorella? Ma lei ce la farà? Qualcuno dice di sì Ti piacciono i miei capelli? Sai, non sono tinti Li vuoi come prima? O di un altro colore? Puoi scegliere Blu Arancione Come li vuoi tu? Pensaci Guarda L'abbiamo riparato È tornato nuovo Io e papà Abbiamo tolto tutti i graffi Erano piccoli e Abbiamo usato una vernice speciale Così Potrai usarlo di nuovo Ora il bastone è tuo Ora il bastone è tuo Te lo lascio qui, ok? Ti prego, perdonami Eccoci E guarda